Salve a tutti amici iscritti e benvenuto in Anteprima Pasqua 2023. Oggi andremo a recensire tutte le uova di Pasqua, non recensire di vedere le uova di Pasqua della Dolphin 2023. Al sesso siamo giunti all'episodo 5 e come per tradizione la Dolphin ha fatto tante belle uova di Pasqua, quelle nuove sono quelle di Sonic, Bluey e Mary S. Eh sì, c'è anche le Hot Wheels, vabbè. Vabbè, cominciamo le peri piccolenze. A fine febbraio iniziano a vendere le mini uova di Pasqua di questi qua. Le peri piccolenze. Quest'anno la Dolphin, lo so, tra la mazzi uovo di Bluey c'è anche Icel e Ovosauro. Va bene, cominciamo. Qua abbiamo mazzi uovo di Bluey 110 grammi che regalo una sorpresa grande di Bluey. C'è con Bluey da sola. C'è con la città di giallo, Bluey e con la sigla sì. Bluey con bingo. Poi abbiamo il mini uovo di Pasqua dei Me Contro Te che gli piace molto, Lauro Lauri News, che è un mio antagonista. E il regalo, nella sorpresa originale, un timbrino di Bluey e Sophie. Poi, poi Icel, la principessa di Sony che contiene una sorpresa. E anche Ovosauro. E qua ci sono anche i soggetti cavi con la sorpresa Pasquale che è sempre a cazzo di Pasquale. C'è il coniglio, il pulcino e basta. Sì, sì, e basta. Guarda la confessione. Adesso andiamo all'argomento principale sulle uova di Pasqua. Quest'anno la Dolphin ha migliorato. Sì, ha migliorato. Hanno fatto bellissime sorprese quest'anno. Bellissime. Allora, uovo di Pasqua di Benedetta Rossi da 250 grammi. Uovo di Pasqua fondente, forse, stessa glutine, fondente. Non le uovo di Pasqua di Super Benny. Le uovo di Pasqua fatte in casa con Benedetta. Con le sorpresine furbe. In ogni regalo queste sorprese qua. Per la cucina. Questo uovo è da 250 grammi. Poi abbiamo Bluey. Bluey quest'anno è da 150 grammi e da 220 grammi. Da 150 grammi non lo vedete al Carrefour. Queste sorprese, ti lo faccio vedere, sono queste. In ogni regalo, nelle uovo di Pasqua da 220 grammi e 150 grammi di Bluey, sì, potete trovare un set pastelli a cera con i disegni, un set scuola, un astuccio con cerniera, quello che lo voglio come sorpresa, e memory cards. Io l'ho già preso. E voi? Prossimamente a Pasquetta, forse come l'episodio di Bluey Peluche. Poi abbiamo le uovo di Pasqua di Pinocchio e Friends, sorprese da Favola che non lo troveremo mai. Comunque è un bel uovo di Pasqua di Pinocchio e Friends. Poi troviamo le nostre uova di Pasqua di Leo Toys. Stupide, ma adesso non si chiama più Leo Toys, ma si chiama Big Toys. Con la vecchia cartacea di Leo Toys della Dolphin, che danno i velicoli da costruire. Poi abbiamo le uova di Pasqua di Bimbo, con le fantastiche mazzi gioco con sorpresa, con tutte le sorprese a caso. Forse anche delle vecchie sorprese di Bimbo e Bimba, più belle che c'è. Poi abbiamo lo stesso, lo stesso uovo di Pasqua di Cuccio della Fattoria che non si trova mai. Sono rare, non le hanno ancora tolte. La Dolphin, che regalo, ci sono quei morbidini della fattoria. Non li ha mai tolti purtroppo. Sono vecchie uova di Pasqua. Poi abbiamo anche le uova di Pasqua dei Me Contro Te. Quest'anno non c'è Bing. Sì, quelli di Otta di Verbi. Vabbè, i Me Contro Te perché non sono della Dolce Preciosi? Il regalo, queste sorprese. Ma poi non mi piacciono questi qua, ok? Danno il cuscino, una pena, un salvadanaio, un astuccio. Queste altre qui, queste altre qua. L'uovo di Pasqua di Me Contro Te da 250 grammi. Poi abbiamo le nostre uova di Pasqua di Poraretti che devo prendere. Devo prendere voi Pasqua di Poraretti anche. Perché hanno fatto un migliore di sorpresa. Poraretti e Friends. Subito il regalo, in ogni ovetto, un peluche dei Poraretti perché non ci sono più i gonfiabili. Finiti, finiti. E più la gelatina di la frutta dei Poraretti. Grande. Vabbè. Il regalo, il peluche di Mr. Poraretto. Un polaretti di gelatina e due peluche. Un orsacchiotto e una focca. Spero di prendere uno di questi. E comunque i Polaretti Team ci sono ancora. Nel retro... Sì, nel corallino, sì. Poi abbiamo questa principessa bruttina. Aisella. Sì, e poi i Polaretti... Le sorprese migliori sono quelle con le uova di Pasqua. Non quelle con i ghiaccioli perché danno sempre i soliti tatuaggi. Peccato che non li danno più i personaggi 3D. Polaretti... Fai tornare i personaggi 3D noni, i tatuaggi. Poi abbiamo una novità Dolphin. Mail My Easy. Le sirene. Le uova di Pasqua delle sirene. Belle. Poi abbiamo I Love Barerina. Sono sempre da 200 per i ghiacciami. Poi abbiamo uno stupore capolavoro della Dolphin. Le uova di Pasqua di Sonic. Finalmente la Dolphin hanno fatto le uova di Pasqua di Sonic. Con raffigurato Sonic, Nacos e Tails. Le uova di Pasqua di Sonic e Tails. Sorprese supersoniche. Che devo prendere? Il regalo potete trovare... Sorprese supersoniche potete trovare... Un frisbee pieghevole di Sonic. Una topa per abiti con Sonic raffigurato. E il tag zaino di Sonic. Spero di prendere uno di queste tre sorprese. Ne prendo solo uno. Comunque è in offerta al Carrefour. Al costo di 7,89€. Lo prenderò. Lo prenderò. Poi abbiamo le uova di Pasqua di Ovo Zauro. Come sempre perché è della Dolphin. Poi abbiamo il ritorno delle uova di Pasqua di Old Twist. Stavolta hanno cambiato a monta, gioca la tua macchina, gioco kit. Le uova di Pasqua di Old Twist. Forse l'anno prossimo la Kinder, probabilmente. Le uova di Pasqua di Emoji. Prima c'era uno cioccolato a latte e uno fondente l'anno scorso. Quest'anno hanno preferito il cioccolato a latte. Ci sono ancora i uova di Pasqua degli Emoji. Il regalo è un salvadanaio di quel cuoricino. E ci sono tanti altri. C'è anche il... Sì. Con una doppia sorpresa da collezionare. I uova di Pasqua degli Emoji. Più popolari della Dolphin. A parte quello di Smile World della Windows che li hanno abbandonate. Poi abbiamo le uova di Pasqua della Dolphin. Con i me contro te. In regalo. Prima davavano questi peluche a forma di cucinetti. E poi adesso hanno il cappello di me contro te. Da 320 grammi c'è il cappello di me contro te. In regalo ci sono tante sorprese dedicati a me contro te. Scusate per le notifiche. Io non li vedo mai in molti video di questi YouTube. Va bene, va bene. Poi abbiamo le uova di Pasqua di Eiser della Dolphin. Da 320 grammi. In regalo danno una corona della principessa Eiser. Sorprese da favola. Beccati questo me contro te. L'aulo laulignoso ti si dispiacerebbe. Poi abbiamo anche 320 grammi di ovo zauro. Che in regalo un... Una doppia sorpresa. Una... Puppet di... Di un triceratopo. Ci sono le maschere o il... O pupazzi, scusa. Poi abbiamo una novità. Quest'anno anche la Hotwills hanno fatto le uova di Pasqua della Dolphin. Ecco perché hanno fatto un cappellino delle Hotwills. Da 320 grammi. Un uovo di Pasqua della Hotwills con il capello. Bella genialata Dolphin. Bella genialata. E poi non perdete le uova di Pasqua di Don Giovanni. Un cioccolato fondente che non si può vedere in salciaglia. Uova da 300 grammi. Poi abbiamo le uova di Pasqua di Freaseline. Uno, due, quattro, sette, cinque chili. Col cioccolato fondente extra Freaseline. E le uova di Pasqua di un chilo. Di me contro te. In regalo una... Una... Specie di borsa. Allora, Dolphin... Perché c'è ancora le uova di Pasqua di... Cuccioli della fattoria? Potresti togliere le uova di Pasqua di cuccioli della fattoria, gentilmente? E sono vecchie uova di Pasqua. Vabbè. Salvo intentuali errori. Va bene, ragazzi. Queste sono tutte le uova di Pasqua della Dolphin del 2023 quest'anno. Di bellissime sorprese che hanno fatto la Dolphin, meravigliato, la Bluey e Sonic. Che prenderò. E anche i polaretti prenderò, non meno i zoomlesi. Ok? Quest'anno è la Dolphin a vincere per le sorprese. Perché? Sono bellissime. Carine, coccolose. Sono più migliori quelli di Sonic e Bluey. No. Il vincitore delle uova di Pasqua della Dolphin è proprio lui. Sonic the E-Jog. Con le fantastiche sorprese come Super Mario l'anno scorso della Kinder. Quest'anno non ci sa più. Super Mario, vediamo. Staremo a vedere l'anno prossimo se la Dolphin farà le vuoi Pasqua di Super Mario. Va bene, ragazzi. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Anteprima Pasqua 2023. Dopo la Dolphin ci sarà un altro, la Motta e la Bauri. Vediamo, vediamo. E poi sospenderò il programma del Tessiglone Show per dare spazio a Anteprima Pasqua 2023 e altri programmi che mi sono perso. Va bene. Ciao a tutti. Dolphin. Ricifi. know, no, no, no. , no, 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 no. , no, 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 nan, no, no.